Giornata nera per i treni diretti a Milano Centrale. Un guasto tecnico di gestione e controllo del traffico questa mattina ha paralizzato 42 treni che hanno accumulato ritardo per il brocco della circolazione alla stazione centrale. 5 i Frecciarossa che hanno subito ritardi fra i 10 minuti e l'ora, 8 i Frecciabianca con ritardi dai 20 ai 100 minuti, 7 gli Intercity con ritardi fra i 20 ai 40 minuti e 22 i regionali che hanno avuto ritardi fra i 5 ai 70 minuti. Resta ancora da valutare invece quanti siano i treni cancellati mentre si lavora per identificare la causa esatta del problema elettrico che ha coinvolto anche monitor e altoparlanti. Durante l'interruzione della circolazione i treni ad alta velocità sono stati fermati alla stazione di Lambrati di Porta Garibaldi, gli altri nelle stazioni di ingresso di Milano. Un solo convoglio in arrivo dalla Svizzera è stato fermato a Monza e le ferrovie hanno messo a disposizione bus per portare i passeggeri in centrale e poi portare a Monza i viaggiatori diretti alla Confederazione Elvetica. La piena funzionalità dei 24 binari della stazione centrale è ripresa intorno alle 12.30 dopo che i tecnici hanno ultimato i controlli di sicurezza su tutti gli scambi e i segnali. Forti i disagi per i pendolari e per chi ha perso inevitabilmente l'aereo o la coincidenza con un altro treno. Ed è per questo che il Codacons ha annunciato un esposto alla Procura per interruzione di pubblico servizio e ha chiesto anche al Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi e a quello dei beni culturali Dario Franceschini di prendere le dovute azioni nei confronti delle ferrovie. Si tratta infatti di un disservizio con pesanti ripercussioni per i viaggiatori nel periodo delle vacanze. Secondo il Codacons tutti i passeggeri che a causa del disservizio abbiano subito forti ritardi e disagi hanno infatti diritto a ricevere un indennizzo automatico da parte delle ferrovie. Se ciò non avverrà sarà inevitabile un'azione collettiva per far valere i diritti degli utenti.